La Fidelis Andria ha scelto il colpo di mercato per l'attacco bianco-azzurro si chiama Loris Palazzo, attaccante classe 91 lo scorso anno in forza alla team Altamura dove ha giocato 34 partite realizzando 11 reti. Già avvicinato alla Fidelis nelle prime battute del calcio mercato estivo, l'attaccante barese in carriera ha segnato oltre 80 gol. Quello di Palazzo non è stato l'unico arrivo ufficializzato dal club bianco-azzurro nel giorno della presentazione di Giancarlo Favarin, nero su bianco sul contratto anche per Giampiero Montemurro, già annunciato nelle scorse settimane, duttile centrocampista e compagno di squadra di Palazzo nella scorsa stagione ad Altamura e Michele Aprile, difensore classe 93 che ha lavorato ad Andrea con Favarin nella stagione 2014-2015. Nei prossimi giorni invece saranno confermati anche gli arrivi degli Andernives e Salimbe in difesa. Reparto nel quale si registrano passi in avanti intanto per Yevren Koznic, difensore centrale serbo classe 1993, impegnato nell'ultima stagione con la maglia del Cluj in Romania, in Italia, esperienze all'attivo nel settore giovanile del Palermo con Pisa e Regina. Curiosità, proprio alla Fidelis, Koznic ha fatto gol nel pareggio per 1-1 del 30 aprile 2017 al Dei Ulivi con la maglia calabrese, scaricando sotto la traversa il calcio di rigore per il pareggio. Koznic potrebbe arrivare in Italia già nella giornata di giovedì, poi ci saranno da valutare i tempi tecnici per l'ottenimento del transfer. Sarebbe un colpo per la squadra allenata da Favarin nella quale andranno infine valutati i destini dei confermati. Non è detto infatti che dalla lista formata da Zingaro, Cipolletta, Porcaro, Bortoletti, Petruccelli e Varriale qualcuno non possa cambiare aria.